Cosa ti devo dire? Ho iniziato l'Academy, l'ho iniziata a settembre del 2016, la stiamo per terminare, è un percorso bello, molto formativo, diciamo a livello universitario, questa è una cosa che a me personalmente piace molto, ho da appassionato dei numeri. Dopodiché il profitto che ne viene fuori da quello che è l'Academy lo vediamo poi tutti i giorni, è quello che tutto il team di Ready2Forex mette su quello che è il blog e poi di conseguenza chi è iscritto dentro l'Academy o comunque al suo abbonamento ha la possibilità tramite una chat di poter avere in tempo reale tutto quello che è la gestione delle posizioni o l'apertura di nuove posizioni. Poi diciamo che con i nuovi prodotti che saranno poi introdotti ci saranno anche delle ulteriori possibilità di entrare anche in intermedi, quindi ogni quattro ore con la Jumping H4. Io sono soddisfatto, se voi volete provare secondo me ne vale la pena, per il prezzo che è il corso è assolutamente di livello.